Dal 1969 è in campo per offrire alla città di Campobasso, ma non solo, spettacoli di qualità per far conoscere la musica e i suoi valori e creare interesse intorno ad essa coinvolgendo professionisti ma anche semplici appassionati. Parliamo dell'Associazione Amici della Musica che in una conferenza stampa nella Sala Mancini del Comune ha presentato la 48esima stagione di concerti. Abbiamo organizzato una serie di concerti che vedono protagonisti grossi nomi della musica classica con qualche novità. La novità potrebbe essere il concerto di Forte Piano del maestro Costantino Mastro Primiano e questo gruppo strepitoso, io li definisco così, che è il suo quadro italiano. 22 appuntamenti di cui 20 al Teatro Savoia e 2 all'Ex Gil, coinvolte in questa nuova stagione anche le scuole. Abbiamo intanto coinvolto i ragazzi del liceo linguistico Pertini per la traduzione dei testi, delle romanze, delle canzoni che saranno oggetto del concerto del 17 dicembre con Alda Cajelo e Andre Gallo. Poi ci sarà una prova aperta dello Stabat Mater di Vivaldi di suo quadro italiano proprio per le scuole. Abbiamo organizzato due masterclass molto importanti. Una che parte a novembre fino a marzo con il maestro Marco Grisanti che è docente di musica da camera. Quindi gli studenti di bienio o già diplomati potranno lavorare per poi tenere un concerto all'interno della stagione. L'altro appuntamento è una masterclass con Costantino Mastro Primiano rivolto però agli studenti di tastiera del conservatorio. Quindi saranno oggetto di questa master, di questo lavoro, autori come Mozart, Haydn e Beethoven. A questo va aggiunto l'incontro con l'interprete Domenico Codispoti in programma al Liceo Musicale Galanti. Una manifestazione dunque con grandi nomi internazionali ma anche con giovani talenti come Antonino Fiumara e Leonardo Colafelice, il futuro della musica italiana nel mondo. Si parte con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese venerdì 14 ottobre alle 21 al Teatro Savoia. Per maggiori dettagli consultare il sito internet www.amicidellamusicacb.it